musica saluto a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video non pregare niente ma basta giochiando per la cosa assurda andando a disegnare trapper da Casci 69 di cui userò l'uomo direttamente quella cosa per scordire in che modo disegnerò seguire i video fino alla fine e tanto che l'intro c'è stato dato già un pochino troppo vi lascio il video e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti